Corsi Pieni Powerbox Corsi Pieni Powerbox Corsi Pieni Powerbox Corsi Pieni Powerbox Generalmente si muove in tre direzioni Con il volantilaggio Con dei post su Facebook E si affida al passaparola Se questo poteva bastare anni fa Oggi, in un settore ipersaturo come il nostro Non è più sufficiente E semplicemente non funziona più Oppure genera molti meno risultati di allora Ecco perché studiando con i migliori formatori di marketing a livello europeo Ho creato Corsi Pieni Powerbox Il sistema di marketing specifico per scuole di ballo Che sta facendo aumentare in pochi mesi Anche del 100% il numero di clienti delle scuole che lo applicano Come funziona Corsi Pieni Powerbox? Allora, preso coscienza della mancanza di tempo, di budget e di dimestichezza dell'uso del web Da parte della maggior parte dei maestri di ballo Ho creato un sistema pratico e specifico per le scuole di ballo Che Uno, non richiede eccessivo impegno per essere applicato Due, è assolutamente pratico Cioè è composto da strategie spiegate passo passo Senza perdere tempo in spiegazioni teoriche e astrazioni varie Tre, è composto da strategie che non richiedono l'uso della tecnologia Questo è un po' in controtendenza Perché in questo periodo tutti sono affascinati dal web e dai social Ma per un'attività geolocalizzata come una scuola di ballo Le strategie di corsi pieni Powerbox Che utilizzano sostanzialmente del materiale cartaceo Che ti insegnerò ad utilizzare Sono assolutamente imbattibili Per concludere Corsi pieni Powerbox Con i suoi tre moduli di marketing a risposta diretta Ti permetterà di differenziarti dalla concorrenza Garantendoti un vantaggio competitivo incolmabile Quindi se sei un insegnante di ballo O sei il titolare di una scuola di ballo E ti sei riconosciuto nelle cose che ho detto in questo breve video E vuoi saperne di più su corsi pieni Powerbox Allora lasciala a me nel form che trovi qui sotto E riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno Ci vediamo presto Ciao da Sergio Togliani